Carcola, Polizio, Capano, Esposito Duarte, Del Vete, Esposito Sino, Monaco, Giotto Giambatore, Caduccio, Bileto, Mosca, Cuccio, Mariano, Daezza, Balsamo, Sofio, Miete, L'Aramano, Cercone, Petone, L'Aramano, Cortese, Coluccio, Diodice Massimo, L'Aramano, Allora, sono 19 presenti e 6 assenti, quindi la testa è valida. Prima di iniziare a voi, voglio solo ricordare che, secondo il nuovo regolamento, vi consiglio un'agrafica insieme all'ordine del giorno, anche quando il nuovo programma di vista di tutta, di tutta, di tutta, di tutta. Allora, comunicazione del sindaco, voi le pretende e non le sono. Qui partiamo al secondo campo all'ordine del giorno, edizione del vice Presidente. Questa già è una seconda seduta sul ministro Nato, la proposta del Consigliere di Tavigliano, quindi la pronuncia di Tavigliano. Sono avvenuti, Presidente e Presidente, sono avvenuti in ogni parte, sono avvenuti a Foggia e avvenuti i terremoti questi giorni. Sarebbe il caso che, per un'altra parte, per un minuto di silenzio, il riporto delle inizioni che sono avvenuti questi giorni, grazie. Prima di partire al minuto di silenzio, un consigliere Musca e Tavigliano, e io dice, sono in grado di questo momento e invitano a raccontare l'intero del Consiglio, il minuto di silenzio, per un minuto di silenzio, per un minuto di silenzio, per un minuto di silenzio. Grazie. 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 Applausi. In questo caso c'è bisogno di una mano alta, è presente che nel rascorso Consiglio Comunale vieno due candidature da parte della opposizione. Se qualcuno chiede di intervenire per formalizzare le candidature personale, se qualcuno interente o altrimenti procediamo che il calente ha il voto. Grazie.